Sì, sì, devo dire che le prime impressioni sono buone. Ho fatto il primo violamento in sala appesi, quindi oggi pomeriggio facciamo la tecnica e abbiamo tempo di conoscersi tre di noi, quindi è tutto a posto. No, non ho giocato con nessuno dei miei nuovi compagni, però li conosco da avversari da tanti anni che gioco qua in Italia, quindi penso che non avrò problemi. È difficile dire adesso perché siamo all'inizio, ancora non ci conosciamo bene, poi penso che abbiamo una buona squadra equilibrata con i giocatori importanti, quindi possiamo giocare contro di tutti. Penso che non è un segreto che ci sono Civitanova, Perugia, Modena, Trento, che secondo me sono un gradino sopra di tutti gli altri. Poi tutto il resto è da giocare e da combattere. Grazie. Grazie. Grazie.